e anche audio questa volta il mio computer si sente bene vediamo il video ok vediamo un attimo se riuscite a vedere la presentazione si vede la vediamo perfetto un grandissimo passo in avanti io purtroppo condividendo lo schermo non riuscirò a visualizzare la chat ci siamo noi però nel caso mi fermate e mi interrompete quando volete soprattutto se dovessi dilungarmi ecco fatemelo presente ti controlliamo a distanza io e Valentino ma anche i docenti che possono intervenire a volte lo fanno è utile anche fare un piccolo assolutamente allora innanzitutto voglio partire con una premessa questa è una presentazione realizzata principalmente per i ragazzi quindi ci saranno molte immagini sperando di alleggerire quanto più possibile questa difficile comunicazione a distanza con un monitor che ci separa e che ci crea non poche difficoltà ad ogni modo il tema dell'intervento insomma la questione ecco che volevo sottoporvi e con sulla quale fare con voi una riflessione era appunto il tema della microarchitettura pensata proprio in un'ottica di prospettiva per la realizzazione di una città che pensi al futuro è un futuro che sia sostenibile non soltanto dal punto di vista dell'utilizzo dei materiali o di quelle che possono essere tutte le attenzioni legate appunto alle tecniche costruttive sostenibili ma proprio a partire dall'idea che sull'abitare sul tema quindi della residenza e della casa come punto cardine del suo essere concepito come cellula oggetto compositivo può diventare ecco una matrice un punto di partenza dal quale poi far scatenare una serie di ragionamenti che in realtà non sono solo frutti non sono solo figli e frutto di quello che rappresenta oggi la contemporaneità ma come vedremo già da un pochino di anni prima di noi qualcuno in un certo ugual modo aveva già annusato questa possibilità di cambiamento e vedremo poi dopo in che modo nello specifico quindi la parola insomma casa e città saranno i nostri fedeli compagni con i quali intraprenderemo questo piccolo viaggio facendo un appendano tra il passato e il presente perché in fondo l'architettura che si occupa sia della costruzione in senso lato ma di spazio quindi che un argomento cardine sia per ciò che concerne la casa e la città diventa un po' un chiodo fisso perché in fondo da sempre ci siamo chiesti che cosa sia poi la casa e cosa sia la città e come l'una cambia in funzione dell'altra quella che vedete è una casa una villa classica insomma che possiamo ritrovare in qualsiasi parte del territorio dei nostri territori e se pensiamo che anche questa come quella precedente è una casa nello specifico quella che vedete nell'immagine Villa Ghetti del Magnate Ghetti del Los Angeles costruita nel 1974 beh ci possiamo già rendere conto di quanto in un certo ugual modo l'idea di abitare l'uno o l'altro spazio possa essere un pochino diverso e anche questa però è una casa nello specifico vedete Gary Ritveld con la Schottberg House realizzata a Utrecht nel 1924 uno degli esempi massimi della costruzione insomma del periodo del moderno che in un certo ugual modo detta un po' le leggi di un rinnovamento radicale poi legato proprio all'abitare e andando ancora avanti anche questa è una casa quella che vedete un insieme di appartamenti realizzati nel 2018 da questo studio di architettura di Archengels a Copenhagen dove il tema appunto dello spazio e delle necessità legate allo spazio diventano motivo di matrice quindi punto di partenza per alimentare poi il discorso progettuale in relazione a queste unità abitative sperimentali e anche queste sono case non volendo entrare nella differenziazione tipologica tutti questi sono nidi abitati da esseri umani di diverse forme di diverse geometrie di diverse superfici tutti però che attualmente insistono sulla stessa linea temporale abitano il presente il nostro pianeta terra all'unisono e come abbiamo visto quella miscellania di case ne potevo selezionare infinite capirete bene insomma anche per le città capite lo stesso questa è una città che credo riconosciate un po' tutti Napoli nella vista insomma da Posilli una delle più iconiche quella che vedete successivamente ora è Times Square New York una vitalità la città che non dorme mai e anche questa è un'altra forma di città vedete Dubai con la vista sterminata da Abuji Khalifa sono dei edifici verticali più più alti realizzato appunto nel 2005 e per terminare sul concetto che anche questa è una città Rio de Janeiro con le sue favelas in uno scatto del 2015 capite bene che è difficile capire effettivamente poi quale città e quale casa sia consona sia rispecchi l'ideale poi affidato a quelle che sono le caratteristiche le peculiarità dell'uomo contemporaneo e questo interrogativo negli ultimi anni soprattutto in seguito enormi cambiamenti e ci ha portato a ricercare alcune soluzioni che guardassero ecco come dicevo prima un po' indietro e una proiezione insomma avanti in prospettiva insomma nell'immediato futuro per rispondere ad alcune problematiche e necessità eminenti diciamo che nell'ottica di quelle che possono essere le attitudini la comprensione lo studio della città questi sono tre copertine di tre pilastri insomma l'architettura della città di Aldorossi imparare Learning from Las Vegas di Bob Ventura e Denise Scott Brown The Leaders New York di qualche anno dopo del 1978 di Ren Coras hanno in un certo ugual modo focalizzato fondato la cultura architettonica contemporanea partendo proprio dall'indagine e dallo studio di che cosa fossero effettivamente case e città e di come l'una e l'altra potessero effettivamente risultare rispondere per ricreare un dispositivo che sia poi utile ed efficace per la vita dell'essere umano nello specifico ancora di più il tema legato alla costruzione micro in relazione poi alla stanza non soltanto dal periodo pandemico ma anche prima ebbene circa trent'anni fa ha iniziato a destare e ridestare nelle teste di noi giovani di noi architetti insomma soprattutto in quelli più giovani una serie di possibilità nuove sulle quali poter lanciare nuovi ragionamenti perché ed è importante dirlo e forse ribadirlo soprattutto per i ragazzi che non si rendono conto di quanto l'esito l'azione che compie un progettista che compie un futuro architetto cioè di variazione dello spazio quanto sia potente in relazione alla sua portata e al pubblico al quale l'esito dell'esercizio progettuale sia poi destinato questa è un'immagine di Napoli prima del 1954 e questa è una Napoli vedete dopo la costruzione dell'hotel Ambassador di Stefania Filospeziale appunto che mi piace ecco un fotomontaggio un collage che in un certo ugual modo faccio vedere spesso ai miei studenti e soprattutto a chi per la prima volta inizia ad abbracciare questo percorso di studi proprio per rendere l'idea di quanto perché noi architetti voi futuri architetti progettisti realizziamo costruzioni realizziamo opere che non a caso vanno a modificare lo scenario la città il suolo urbano sul quale poi operiamo non soltanto l'orografia non soltanto la struttura ma anche il rapporto tra le persone e lo spazio e quindi questo mestiere è un mestiere di grande responsabilità e ancora di più oggi è necessario interrogarsi tante più volte per capire effettivamente quale città come la città e quale casa e come la casa debba essere composta per rispondere alle rinnovate necessità dell'uomo contemporaneo in fondo volendo sintetizzare non a caso le città sono lo specchio degli abitanti e degli uomini che li abitano è sempre stato così dal passato ciò che chiamiamo tradizione si lega all'idea di un abitare che è rimasto inviolato o trasformato in parte nel tempo che ha lavorato col tempo e quindi capire quali sono poi le azioni legate all'abitare la costruzione dello spazio ancora oggi di più che la vita è radicalmente cambiata per una serie di motivi tra i vari motivi oltre il problema climatico le difficoltà politiche le geografie che cambiano le pandemie che ci attanagliano è ancora più difficile capire effettivamente o andare a sintetizzare quali sono gli aspetti di vitale importanza con i quali e sui quali poter innescare un discorso concreto sull'abitare per proporre poi delle soluzioni attraverso il progetto che possono non a caso rispondere a tali circostanze ancora di più e forse i ragazzi riconoscono questa schermata il vivere in piazza la vita di piazza l'incontro ecco il darsi la mano e scambiarsi un sorriso che avveniva semplicemente con il contatto o con il guardarsi per pochi istanti negli occhi ancora di più con le piattaforme social non solo quelle che conosciamo ma legate a una serie di attività collettive di gruppo come ad esempio Twitch legate quindi al gioco alla scoperta ma soprattutto a un interesse comune da condividere attraverso le nuove tecnologie rendono ancora più ostile questo ritorno insomma a una a un incontro tra persone fisico corporeo esiste in diverse realtà soprattutto in Asia l'aumento del fenomeno degli chikomori che sono delle figure delle persone dei ragazzi soprattutto i giovani che preferiscono chiudersi tentanarsi all'interno delle proprie stanze per poter in un certo ugual modo vivere e abitare il macrocosmo legato alla diffusione dei canali in via e quindi ad avere il superamento dei confini delle geografie senza alcun limite fisico cosa che ha portato a una serie di problematiche riscontrate in tanti canti e che ha fatto sì che anche l'architettura in un certo ugual modo tenesse conto di queste dinamiche proprio per cercare in un certo ugual modo di stare al passo coi tempi e non fasciarsi la testa e gli occhi rispetto a ciò che sta realmente accadendo e che ci chiede uno sforzo come dicevo in più ora oggi costruire un buon edificio una bella casa che risponde appunto a tutti gli standard urbanistici tecnologici tecnici che abbia tutto diciamo il pedigree all'occorrenza tutto tutto alla perfezione non vuol dire vivere una casa o uno spazio che sia accogliente giusto e utile per i propri abitanti e nell'ottica soprattutto dell'abitare minimo cioè del ragionamento sugli spazi sul consumo degli spazi sul limitare il consumo degli spazi in un'ottica di sostenibilità proprio per destinare le grandi superfici ad altro agli spazi per una rinnovata forma di collettività ebbene l'architettura degli ultimi anni ha lanciato una serie di risoluzioni e riflessioni proprio sul tema dell'intervento sull'esistente o sulla possibilità di costruire su nuovo piccole soluzioni abitative che potessero appunto essere dei veri e propri microcosmi nei quali poter riscoprire l'ideale poi settecentesco dell'abitare la capanna primitiva e in quest'ottica ancora di più una delle figure che in un certo ugual modo mette al centro della discussione compositiva del progetto la portata l'importanza dello spazio minimo legato alla casa e nello specifico ancora di più legato alla stanza come dispositivo dal quale scaturire il potenziale delle azioni dell'abitare consono alla vita dell'uomo c'è questo illustre personaggio Charles Edouard Genere chiamato Le Corbusier che ci dice nel 1928 uno dei massimi esponenti del moderno uno dei massimi e più alti maestri dell'architettura senza tempo perché è difficile connotare ecco Le Corbusier soltanto al suo periodo di vita e il suo passaggio di vita sulla terra in quanto il suo pensiero le sue architetture il suo modo di interpretare la realtà o di leggere anticipare quegli allenamenti futuri è ancora del tutto attuale e Le Corbusier con questa riflessione ci definisce proprio che cosa e perché bisogna partire insomma dalla casa non da altri tipi di spazi per rispondere a una serie di questioni nodali per l'uomo e per l'essere umano perché la casa qualifica l'uomo un uomo che è creatore di geometrie l'uomo non saprebbe agire senza la geometria perché è un essere esatto non un pezzo di legno nella sua forma e nella sua forza nessuna aggiunta senza una funzione precisa l'uomo è economa la casa tipo e la summa dell'economia nella geometria la modularità lo ordonnance sottolinea la nobiltà e la bellezza un giorno questo luogo non sarà come il pantone dedicato agli dei ebbene Le Corbusier tra le varie grandissime architetture che ci ha lasciato a testimonianza del suo pensiero devo dire che nell'ottica del tema scelto appunto dell'abitare micro con questo straordinario progetto realizzato a Rockbrun a Martin nel 1952 in Francia chiamato Le Cabamon Le Corbusier per la prima volta da vita a luogo della stanza senza tempo che questo piccolo spazio quadrato di 366 centimetri per 366 con un'altezza di 226 centimetri nel quale lui condensa la sua poetica legata all'espressione massima dell'abitare scorro un po' rapidamente le immagini sono immagini di archivio sono ridisegni sono schizze assonometrie realizzate dallo stesso maestro svizzero di una capsula nella quale lo stesso si rintanava nel periodo estivo adorava trascorrere le sue vacanze gli ultimi anni di vita prima di morire nel 1965 sono stati trascorsi proprio in questo piccolo spazio che era più di una dimora era più di uno studio ma era un luogo della conoscenza dell'abitare intimo dell'io imperante che questo straordinario attore metteva e faceva fuoriuscire trasudava nelle sue realizzazioni una piccola capsula veramente semplice con materiali di quercia all'esterno avete visto quei materiali ligni oppure ci sono delle immagini dopo lo vedrete ancora meglio con un interno che regolato dalla geometria e con un discorso vedete sui movimenti nello specifico guardate quanta importanza si dà alle azioni legate alla specificità del corpo umano in relazione agli oggetti che lo stesso autore disegna per questo spazio dove niente è lasciato a caso dove tutto è necessario e indispensabile per svolgere azioni in assoluta autonomia con l'idea di proteggersi rispetto alla sterminata natura che questo straordinario posto offriva alla vista tema molto importante sul guardare incorniciare anche il paesaggio e renderlo veicolo di trasmissione del sapere che Corbiò ha portato avanti come ricerca compositiva e progettuale in tantissime sue opere come la Maison des Lacs sul lago Ameno un petit Maison sul lago Ameno Bil-Sawah eccetera e come potete vedere il pavimento con un unico colore il soffitto le geometrie vedete queste tissellature di pannelli di compensato che cambiano colore per ritmare per dare vita alimentare il senso di scoperta di uno spazio che come vi dicevo è piccolissimo ma che ha tutto diventa ecco il primo esempio di come l'abitare micro si possa adattare e rendere utile a una serie di circostanze in una maniera ancora più intelligente e forse interessante rispetto a tutta una serie di soluzioni le che vedete scorrere sono proprio delle immagini di archivio che immortalano in alcuni momenti quotidiani lo scorrere delle ore il quotidiano ecco di le cordesie all'interno di questo spazio un progetto che ancora oggi assume un ruolo fondamentale e pone ci pone ancora tutta una serie di interrogativi e a partire dal tema del cabanon nel 2016 in una mostra bellissima tenuta alla trennale di Milano da Beppe Finessi un altro progettista italiano Umberto Riva reinterpretando il tema del cabanon propone sempre sulla costruzione vedete il tema dell'abitare il piccolo spazio ma piccolo non vuol dire rinuncia piccolo non vuol dire doversi limitare al contrario vuol dire calibrare al massimo delle possibilità quelle che sono le esigenze reali e concrete del potenziale abitante di questo spazio e nella geometria nella tessitura dell'esterno nelle costruzioni di questo apparato paretale vedete di picche minime bucature che vanno a riprendere il tema della scoperta della relazione del paesaggio che aveva un grande modo essere le corvisie all'interno del progetto appunto delle cavanone ancora di più in questo lavoro c'è questo tentativo di riproporre una costruzione minima dove il blocco di servizio e l'ingresso viene staccato dal resto con un'ottica che non ripercorre che rompe il valore della simmetria altro tema legato al classicismo che viene in un certo modo dissacrato in questa realizzazione per sistemare all'interno di quella che è una piccola camera tutto il necessario per abitare in autonomia lo spazio abbiamo un bagno come vedete con doccia un piccolo lavabo l'ingresso la cucina con annesso tavolo letto scrivania scrittoio angolo lettura facendo facendo un passaggio indietro nel 41 prima anche di le corbusie con il suo cabanon Ralph Erskine realizza un prototipo di casa che diventa poi la sua casa nella quale ha vissuto più di 15 anni chiamato The Box e The Box si interroga su quelli che sono i principi dell'abitare sostenibile a costo zero andando a riprendere e andando a costruire e a delimitare all'interno di questa ardura di questo straordinario spazio tutti i materiali locali tutte le pietre per senza e linee per cuori che consentono a questo architetto di confezionare uno spazio assolutamente unico che ha un'ambizione in più quella di diventare una vera e propria casa pensato per una casa pensata per una piccola famiglia per due persone ci ha abitato per diversi anni con la sua compagna e come potete vedere attraverso una costruzione per parti dove l'esterno le mura il perimetro diventano non soltanto il luogo e l'elemento deputato a proteggere lo spazio nell'interno dagli agenti atmosferici dall'estrano da ciò che è fuori ma lo spessore Muraro diventa una possibilità interpretativa di distribuire gli elementi di arredo lasciando per quanto più libera possibile la zona centrale che può essere non a caso utilizzata e impegnata per diverse attività sulla sinistra una cucina nel punto centrale un cammino che fa da veicolo da punto di congiunzione tra queste due grandi parti e la peranda che è uno spazio annesso fondamentale di estensione della casa in questo progetto ancora di più l'interesse che si rimanda alle pareti che foderano questa struttura diventa un tema sì io purtroppo mi penso di essere addormentato di aver perso circa dieci minuti di lezione queste sono le persone che si intrufolano nel nostro non sono delle cose Valentina spegni questi microfoni sì fatto no mi fa piacere i ragazzi danno i link anche agli esterni pensiamoci ancora tocca no ti devo dire se se far addormentare è una grande dote soprattutto in un periodo dove io ad esempio non riesco a dormire alla prossima volta mi registro e mi 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 vedete l'elemento che podera che che caratterizza poi le pareti nella loro poi decorazione è ancora è ancora più importante ancora più umano rispetto a quelle che possono essere le configurazioni austere un po' algile delle architetture che abbiamo visto un po' prima perché effettivamente quelli erano spazi abitati abitati in un certo modo ma mai vissuti con le eh necessità del quotidiano appunto di una canonica famiglia e nello specifico ancora di più eh in questa immagine eh che vede il ritratto proprio Ralph Herskin nel ehm eh nel trasportare vedete questi assi linei ci dà una una grande indicazione di come lo spessore murario diventa esso stesso elemento di caratterizzazione dello spazio eh in termini di rivestimento mutuo scusa scusa ti interrompo io questo di chi è questo progetto qua l'hai detto prima mi ha scogito Ralph Herskin e questo legno cosa è tutta la parete è fatto così questi elementi mi faccio vedere è uno scavo è come se fosse una cia svuotata in questa parte ok questo è l'ingresso e in pratica eh a seconda del taglio poi vedi degli elementi di questi assi di legno dei tronchi eh sì adesso si vede bene sì ho capito cambia di volta in volta queste sono ovviamente storiche queste sono più recenti comunque cambia di volta in volta lo scenario e quindi come anche eh questo diciamo è un esercizio un esperiente che viene utilizzato tanto con le pareti digitali no con i led o l'altro per arricchire movimentare eh la la ridare vitalità molto spesso a delle cortine edilizie con con strumenti digitali come invece ecco pensare alla varietà della natura attraverso una eh un atteggiamento una risoluzione veramente molto semplice e possa di per sé avere lo stesso ruolo e significato ma ancora di più questo progetto tra le varie cose eh che lo caratterizzano e che lo rendono veramente speciale e il tema legato per la costruzione di spazi minimi a un oggetto che eh in una stanza ma soprattutto in una casa qualsiasi è più ingrombrante ovvero il letto il letto di per sé occupa una superficie notevole è un elemento fisso inviolabile e guardate invece attraverso il sistema di carrucole e di portata a soffitto come il letto diventa una parete mobile un elemento orizzontale che si snoda in verticale nello spazio e che trasforma vedete la zona giorno in area notte in pochi istanti eh ancora di più delle immagini eh del suo studio o di quello che era l'angolo studio perché definirlo lo suo studio un po' riduttivo ehm come quindi lo spazio la la generazione la divisione degli scomparti in relazione anche agli oggetti che vengono stipati tiene conto non a caso delle necessità del dell'abitante e quindi del progettista stesso in questo caso eh facendo un salto in avanti nel 2013 Renzo Piano realizza eh per la Vitraus un un progetto chiamato Diogene ispirato al Diogene di Sinope nel Waterhouse del 1882 ovvero di un uomo che vive della sua botta e non a caso la dimensione legata a questo spazio eh è di un oggetto di sei metri quadrati con un'altezza di due metri e mezzo ehm un oggetto piccolissimo ma dal grande eh fascino tecnologico un oggetto che si autoalimenta eh che recupera l'acqua piovana che la ridistribuisce per gli scarichi che con un sistema di ventole di paleoliche autoproduce energia una capsula abitabile per un abitare ovviamente temporaneo momentaneo quindi un abitare di necessità diventa però e contiene eh tutto il necessario per rendere appunto dignitosa l'azione del vivere nello specifico in questi spaccati in queste sezioni notate come è distribuito lo spazio come il colmo quest'altezza appunto del tetto eh a spioventi ci consente di avere il posizionamento dei solenzi sonali avere il boiler per il eh il recupero delle acque avere eh una serie di oggetti che vanno a compattarsi con le pareti anche in questo caso ancora di più e che diventano necessarie sono solo le uniche eh gli unici elementi e gli unici oggetti con i quali poter appunto distribuire eh lo spazio e nello specifico vedete mh quanto eh le pareti bucate questa grande perché è grande in proporzionale superfici questa grande parete questa grande fascia svuotata una grande finestra che dà sull'esterno e questa grande apertura in opposizione alla falda chiusa dove è appoggiato appunto il pannello solare riescono a superare il limite dimensionale di sei metri quadrati a non rendere claustrofobico un ambiente che è piccolo o grande quanto potrebbe essere il bagno della vostra casa e eh vedete quanto anche l'utilizzo del colore lavorare appunto con l'armocrinia con i materiali naturali possa in un certo ugual modo scusatemi è partita una chiamata mi stanno chiamando aspettate vedete sempre la presentazione sì un attimo tanto che non vedo più voi sì 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 no ora in condivisione non la vediamo lo vediamo te perdonate solo un secondo perché vedete schiava della tecnologia dove tutto è connesso è partita una chiamata che si è trasformata allora ci provano anche a rifiutare vediamo se ce la facciamo dovremmo farcela ecco qui eccoci qua perdonate ora dovreste rivedere la presentazione sì sì infatti sì si vede ok allora andando avanti ancora sul tema della della capanna primitiva dell'abitare micro in diverse accezioni in diverse usi circostanze il progetto di Erzmosh Cabano su un rio due micro stanze di 26 metri quadrati realizzate nel 2013 che ripercorrono il tema di un abitare resiliente ma soprattutto di resistenza vera e propria andando a chiudere completamente e andare a chiudersi completamente rispetto al sito nel quale questi due oggetti o come due monadi vengono inseriti per riprendere vedete il tema sempre del listello dell'assilinio che è un chiaro omaggio al al Cabanon e che immaginando una costruzione un po' come una testugine si apre si svela per parti e nell'ottica di un rifugio prossimo e primitivo riprende le fattezze la cura degli interni mantenendo appunto questo carattere assolutamente severo ancora gli unici architetti del 2013 un progetto di microspazio qui non c'è tanto l'idea del luogo in cui vivere ma di una piccola entità nella foresta un piccolo padiglione staccato dal resto della casa nel quale poter trascorrere quel tempo libero un progetto realizzato con materiali di risulta con pannelli di usb pannelli di legno riciclato che vengono più spesso utilizzati per foderare appunto i cantieri edili vedete anche in questo caso il rapporto anche cromatico con l'esterno e con l'idea di aprire di svuotare le grandi superfici per connettere poi la piccola cellula con lo spazio e l'ambiente naturale nel quale è inserita diventa motivo di questo strano oggetto che abbraccia l'orografia del luogo appoggiandosi non a caso su una pietra sedimentare e che vuole vedete relazione stiamo parlando di questo piccolo oggetto rispetto al resto della casa che ci interessa insomma poco nel quale è possibile svolgere una serie di attività come leggere pensare meditare scorro rapidamente immagini tecniche delle sezioni di spaccate assonomatici che ci fanno ancora di più rendere capire quanto questo spazio possa e come questo spazio può essere vissuto andando ancora avanti sul tema dell'abitare micro composto o da comporre e da adattare in base alle esigenze da customizzare in base alle esigenze degli abitanti un po' come quando si va in concessionaria e si sceglie si fa un preventivo con i diversi allestimenti per un automobile anche questo progetto trekking cabin di crystal hermann's architecture realizzato nel 2012 parte dalla costruzione modulare di un blocco di 20 metri quadrati estendibile prefabbricato preassemblato e in base come vi dicevo alle alle esigenze della committenza lo spazio viene progettato progettato in relazione a a luogo all'idea di porzione o di aduzione esterna quindi è da aggiunta cresce la famiglia i 20 metri quadri si trasformano in 40 si trasformano in 60 metri quadrati ma badate bene che 20 metri quadrati è lo standard minimo nel quale questo dispositivo è pensato per accogliere due persone senza alcuna insomma limitazione scorro delle immagini in questa nello specifico si vede il processo dal tema proprio della capanna che viene reinterpretato e che diventa anche motivo di costruzione geometrica per la risoluzione poi di facciata dell'oggetto in questione in una cellula tipo in un microspazio tipo che vedete ci sono tutta una serie di indicazioni con le quali è possibile comprendere come lo spazio si si comporta come lo spazio è caratterizzato veramente molto in maniera molto semplice anche qui però c'è il tema che ritorna e rievoca scenari ecco un pochino più più lontani quello appunto del del cabanon della dell'elemento ligno guardate anche in questo caso come segno dell'asse di legno in verticale che va a a conformare appunto gli alzati il desiderio di svuotare di aprire una cosa necessaria in un'operazione del genere di aprire e di destinare grandi superfici vetrate per appunto ricreare un aumento percettivo all'interno di questo spazio volendo portare ciò che c'è di fuori all'interno proprio per superare il limite dimensionale del quale poter vivere e ancora Mapa Airship del 2013 con il progetto Minipod anche questo in una versione estendibile lungo un'asse predominante una superficie il progetto che vedete adesso di 27 metri quadrati anche questo come il precedente già precostituito o preassemblato possibilmente customizzato anche dal futuro acquirente e abitante e l'estensione di questo oggetto vedete come un tunnel in un certo ugual modo si sequenza in tre momenti nei quali la parte centrale svuotata dalle due grandi pareti finestrate che si chiudono poi a riccio un po' come i progetti che avete visto anche prima con questi grandi portelloni che vanno in un certo ugual modo poi a chiudersi o ad aprirsi magicamente verso il luogo nel quale questo questo piccolo oggetto abitato va ad inserirsi non a caso le pareti corte i lati corti come questa parete che è occupata da una grandissima vetrata verso l'orizzonte è il punto nel quale è possibile poi estendere vedete l'oggetto la costruzione nel momento in cui voglio comprare un ulteriore blocco alcune foto del trasporto e della posa insomma in situ dell'oggetto e anche in questo caso vedete dalla pianta come si comporta lo spazio pochi elementi fissi il blocco appunto servizi cucina tutto il resto è libero di circolare di essere appunto utilizzato come meglio si crede ma soprattutto la cosa che ci desta sorpresi all'interno di questo spazio e di questo piccolo progetto ancora di più è la possibilità di avere una grandissima guardate doccia nella quale rendetevi conto della porzione dolcia in relazione alla dimensione dell'ettono nella quale poter ecco nell'idea di dire minimo 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 spazio massimo sacrificio in realtà il più delle volte da una condizione del genere possono invece risolversi alcune delle questioni o alcuni degli sfizi che più delle volte risultano invece difficili inserire nelle costruzioni più comuni con le quali abbiamo a che fare questi sono alcune foto di modelli di questo progetto di plastico che ho fatto qualche anno fa con i miei studenti e volendo continuare sul questione non so se ho ancora altro tempo ditemi voi però sul se volete un po' 5 minuti ne puoi prendere tanto così facciamo un'oretta precisa no va bene allora faccio una carrellata molto molto rapida perché sul tema dell'intervenire del proporre soluzioni micro soprattutto nella logica interpretativa della nuova famiglia ancora di più oggigiorno si incontra famiglie unipersonali a famiglie legate alla presenza appunto di un solo membro all'interno del nucleo familiare o di giovani coppie con massimo un figlio nella in questa logica sono tantissimi anche gli interventi di costruzione e di realizzazioni e all'interno di spazi precostituiti di vecchi appartamenti che vengono in un certo ugual modo divisi in più parti proprio per ottimizzare funzionalmente le proprie superfici ci sono tutta una serie di progetti che nei 25 30 16 metri quadrati vanno a proporre delle soluzioni di interne assolutamente interessanti per la qualità di vita che si propone agli abitanti io posso scorrere rapidamente questi progetti come il Bati Pin Flat anche in questo caso sono tutte realizzazioni poi di studi contemporanei di giovani progettisti che come vi dicevo prima assumono proprio un po' come manifesto politico l'idea di la possibilità di intervenire sull'esistente sulla concezione dell'abitare di proporre quindi soluzioni abitative minime proprio per ripristinare un discorso poi sintattico con la casa e con l'abitare in una forma completamente rinnovata per la quale sicuramente è giusto porre una riflessione condivisibile o meno vedete anche in questo caso l'idea e la risoluzione è sempre legata alla possibilità di intervenire sull'esistente con operazioni minime non alterando la qualità dell'oggetto come dispositivo all'interno del quale si può inserire un ulteriore spazio una stanza nella stanza sul tema della stanza nella stanza questo lavoro che con un mobile flessibile modulabile con scorrimento vedete a binario nelle sue estensioni va a conformare a dare dinamicità allo spazio e a convertire i luoghi del vivere attraverso il movimento di questo oggetto che diventa camera da letto che diventa cabina armadio che diventa cucina i progetti selezionati come avete avuto modo di vedere sono hanno fioruja che attraverso l'utilizzo di materiali molto poveri di recupero e guardate questo è un dettaglio con l'idea di sospensione di questo grande macchina su delle ruote dei carrelli che vengono appunto rimessi all'interno del filo dell'oggetto proprio per dare l'idea di leggerezza questo filo d'ombra che ci fa immaginare alla sospensione di questa grande massa nello spazio come potete vedere la proprietaria stessa una designer spagnola si muove all'interno dell'oggetto i 45 metri quadrati erano in relazione a tutto questo ambiente e aveva la necessità di dividerli in due parti uno appunto dove c'è la sequenza scenica delle camere che avete visto che cambiano con lo scorrere di questo oggetto e uno spazio invece libero per attività ludiche ricreative ma soprattutto per una messa in scena delle sue attività laboratoriali e delle sue attività di profondità va bene io ci sono tantissimi altri progetti che ho selezionato però se non ho un altro tempo mi fermerei qui anche perché non vorrei far addormentare più nessuno insomma e darei spazio non hai fatto addormentare anzi era interessante infatti ho detto che noi chiudiamo dicevo chiudiamo in bellezza perché poi alla fine la composizione architettonica l'architettura cioè i progetti di architettura sono la sintesi del nostro dipartimento quindi l'offerta che noi proponiamo quindi abbiamo fatto restauro pianificazione urbanistica tecnologia però poi l'architettura resta il centro dei nostri della nostra scuola e tu hai fatto vedere in particolare l'elemento micro nel senso non so come lo definire a misura l'uomo a misura esatta e non essere costretti in un sono studi e ricerche che riescono a calibrare lo spazio o la persona o no e questa è l'idea assoluta assolutamente sì cioè l'uomo con la sua fisicità torna al centro della questione con le sue necessità abitative volevo approfittare forse anche un po' divertente forse per i ragazzi far vedere un piccolo pdf che ho trovato va giusto nello scorrere che è proprio un esercizio fatto con non so se riuscite a visualizzarlo è un esercizio fatto l'anno scorso con degli studenti di design nel laboratorio di interni dove il tema era proprio quello della loro camera quindi a partire dalla conformazione del loro spazio nel quale vivono la loro stanza hanno costruito hanno realizzato degli spazi che hanno non a caso la prerogativa o l'ambizione dei progetti che abbiamo presentato poco fa e quindi un esercizio così semplice e diretto su azioni di modificazioni così diciamo dirette in uno spazio che poi viene vissuto da sempre senza prestare poi la giusta attenzione o subendolo passivamente il più delle volte si è trasformato come in questo caso vedete nella costruzione interpretativa di un abitacolo di un luogo da abitare appunto a 360 gradi anche perché il più delle volte ci è capitato nelle fasi di rilievo di avere realmente delle soluzioni abitative dove altezze considerevoli potevano consentire ecco di approfittare dell'estensione della cellula e quindi di fare un grande sperimentazione ecco va bene io non voglio parlare più perché non vorrei ecco possiamo chiedere ai ragazzi o ai docenti se vogliono integrare chiedere qualcosa mi sentite sì io avevo alzato la mano intervento si capisce no è un professore della corte del segreto niente volevo dire che il tema è di grandissima attualità anche se a volte sembra un po' particolare noi andiamo alla conquista dello spazio si parla di piccolissime cellule di aggregazione di cellule le nuove generazioni devono abituarsi a convivere a vivere in questi piccoli spazi tra poco saremmo proiettati diciamo sicuramente sulla luna non solo per fare dei viaggi spaziali di piacere ma speriamo non moltissimo tempo lontano la luna sarà sicuramente uno spazio sul quale ci nasceranno delle aggregazioni e ovviamente saranno minimal c'era mi ricordo una tesi di un nostro docente Fisio Pizzalis che fece gli insegnamenti su Marte ci sono tantissime tantissime risoluzioni su appunto il tema della modularità aerospaziale in una prospettiva abitativa almeno un po' distante negli esiti insomma concreti però è da diversi anni dagli anni dal 65 in particolare che si va in quella direzione assolutamente sì ma ancora di più ci sono delle urgenze adesso che andrebbero prese in considerazione dicevo molto prima della pandemia perché la pandemia ha significato per noi un ritorno alle nostre case forse per la prima volta dove pare dopo tanti anni guardarle con grande attenzione subirle con altrettanta devozione e quindi questo fenomeno diciamo dell'accoglienza legata proprio al senso di protezione di riparo della casa dello spazio in cui abitare le generazioni più giovani forse lo hanno vissuto sulla propria pelle lo vivono per la prima volta nel momento in cui fanno esperienze all'estero dovendo adattarsi ecco a delle soluzioni arrangiate di poca ospitalità per far fronte appunto a delle esigenze diverse come quella di un lavoro fuorisede o la possibilità di studiare in città che richiedono degli sborsi economici per delle soluzioni abitabili dignitose di un certo livello pertanto l'ottica di migliorare la qualità anche solo di una stanza tenendo conto di una serie di elementi che partono anche dagli elementi di arredo ma superando la dimensione o la risposta di giusta utilizzo legata soltanto al funzionamento dell'oggetto e risposta alle qualità degli standard applicati ma chiedendosi qualcosa altro e qualcosa in più che oggi è assolutamente necessario ed è questo un punto sul quale far leva soprattutto per il futuro di quelli che saranno i nuovi progettisti del domani perché pensare a una casa che possa adattarsi muoversi cambiare con gli stessi abitanti ci consente di risparmiare risorse di risparmiare energie di risparmiare materiali di non dover intervenire tante volte sull'esistente e come sappiamo il più delle volte l'avrete sicuramente già detto in tantissimi altri seminari che proprio il rapporto legato alla costruzione e al dispendio economico ed energetico delle costruzioni edilizie è uno dei punti sui quali non a caso si discute da tanto perché rientra in una delle forme di inquinamento globale più forte quindi diciamo l'ottica è questa se l'idea soprattutto di minimo come rinuncia e come privazione viene superata ancora di più c'è la possibilità da parte ma anche di aziende e di investitori di poter sperimentare nuove forme di abitare a partire da una rivalutazione dello spazio dove negli esempi diciamo più iconici o meno provocatori c'è comunque tanta possibilità di migliorare della qualità del vivere odierno scusa dicevi professore non ci abbiamo sentito ovviamente ci troviamo di fronte o dobbiamo progettare ancora una macchina casa molto più avvenuta ovviamente dobbiamo avere la possibilità individuale o a coppia di approvvigionarci di una minima anche spostandoci trovandoci in un altro luogo dobbiamo avere la possibilità di prendere delle chiavi ad avere una piccolissima struttura una piccola cellula che sono disti tutte le nostre esigenze a pochissimo costo ovviamente una macchina molto evoluta più evoluta di quella che siamo abituati a conoscere anche in termini di sostenibilità tutto va di pari passo ovviamente ecco altri interventi curiosità abbiamo visto pure un sacco di progetti di progetti di progettisti forse a loro i ragazzi molti li conoscono perché hanno anche un indirizzo architettura alcuni istituti che fanno parte del PCTO però erano una carrellata interessante sì io se posso sono il professore annunziante del Caselli volevo ringraziare il non ho capito è un liceo scientifico qual è il Caselli il Caselli di Capodimonte siamo sia liceo artistico che design della ceramica noi volevo ringraziare la professoressa in particolare per la cellula nella quale si rintano le corbusiere che veramente dopo aver progettato di tutto di più si è chiuso in un cubetto dove aveva pochissime cose quella è significativa insomma come esperienza soprattutto anche per i materiali che ha utilizzato molto diversi da tutto il cemento che ha usato nelle sue strutture più grosse anticipando forse questi discorsi sulla sostenibilità di oggi certo sì sì indubbiamente per questo all'inizio proprio dicevo partiremo da qualcosa di così lontano in termini temporali ma che negli echi ancora oggi è un punto di partenza rappresenta paradossalmente un punto di partenza per molto dovrebbe essere insomma così quindi perché quel progetto incarna tutto incarna come lei diceva un abbandono alla grande sperimentazione delle per abbracciare per abbracciare materiali un po' dimenticati e soprattutto ritornare alla qualità dell'espressione artistica ed estetica e funzionale in uno spazio che di per sé per la portata degli accadimenti del moderno è quasi inconsistente senza significato potremmo dire e invece quel progetto oggi ritorna forse più di altri con una grande con una grande attenzione meno per me è vitale pensare a Le Cabanon come l'ultimo lascito appunto prima di morire di questo straordinario autore che che un po' ci ha abbandonati dicendo quasi come non so i saluti in punta di morte no? fate attenzione perché forse ciò sul quale dovremmo potreste pensare la risoluzione del tutto è proprio questo piccolo oggetto qui possiamo parlare di corsi dell'architettura? ma dell'architettura e non solo Gideon diceva l'uomo si confronta con l'eterno presente e alla fine è vero un po' è vero quello però che ecco ancora di più forse dovremmo tentare di fare oggi e viverlo il presente non subirlo perché la vita frenetica che facciamo non ci consente di capire realmente che cosa stiamo vivendo e a volte fermarsi dieci minuti ci aiuta tanto perché ci troviamo in in un'epoca di grande rischio dove veramente non si può più sbagliare e non si può più sbagliare soprattutto nei confronti dei giovani dei ragazzi che che sono il presente e che sono il domani oggi mi piace dire sono il domani oggi in quest'ottica così rapida c'è bisogno di acuire e di prestare di guardare di aprire tanto gli occhi e di lavorare con grande sensibilità forse insegnare ad assumere una posizione ecco di sensibilità nei confronti del mondo non soltanto etica morale credo sia quasi necessario forse partire da quello per poter poi fare tutto ecco se già si riuscisse sarebbe molto importante perché più delle volte soprattutto i ragazzi sono tentati sono sopraffatti da tante altre cose che prima non c'erano che le distraggono totalmente e allora di scoprire in loro instillare in loro il sogno della possibilità del cambiamento e della bellezza di una rinnovata bellezza perché la bellezza va educata il valore della scoperta del bello è qualcosa che va educato e va coltivato coltivato e quindi di fare quello è già siamo al 70% di quanto si possa poi realmente fare questo almeno dal mio piccolo con i miei studenti è proprio il primo approccio verso questo mondo che dà grande soddisfazione come dicevo un lavoro di grande responsabilità ma che è interessante ed è bello proprio perché abbraccia tanto tanta cultura tanto sapere trasversale quindi oggi abbiamo parlato solo di case e di micro case e non siamo entrati nel vivo di altre questioni come lo spazio della piazza anzi abbiamo parlato di stanze neanche di vere e proprie case insomma in effetti lo spazio è necessario sì proprio del minimo necessario fondamentale insomma per poter ecco essere umani come essere umani sì sì io non so se ci sono dei ragazzi o sarebbe stato molto interessante con loro fare delle sperimentazioni sul campo ecco perché ci si diverte di più facendo e non soltanto ascoltando qualcuno che ti fa vedere cose fatte da però noi a volte abbiamo proposto dei temi ma una fotografia delle piccoli lavori concettuali ora magari siamo alla fine del CTO però alcuni docenti l'hanno fatto all'inizio per dare una traccia di questo per dire che si deve parlare di temi allora hai fatto la loro che parla dell'essenziale della sostanza cioè proprio dell'essenziale ok della sostanza più importante lo spazio necessario perché noi spieghiamo tanti spazi inutili e invece c'è un insegnamento veramente forte quello dello spazio necessario speriamo che sia arrivato a tutti i ragazzi questo messaggio lo spero lo spero nel caso spero di averli fatti come dire addormentare con con piacere insomma facendo fare dei sogni abbiamo quasi cento cento partecipanti qualcuno sarà distratto ma molti avranno ascoltato io purtroppo ho volto sentire bene dicevo toglieremo il tutto nella classe da domani no non si è sentito la prima parola consolideremo domani in classe ne parleremo domani in classe facciamo io spesso faccio così una volta concluso diciamo il seminario lo riprendiamo un po' in classe va bene va bene allora se non ci sono domande possiamo anche chiudere ovviamente questa lezione sarà registrata e messa su youtube assieme alle altre nel nostro canale e e niente quindi ci vediamo per l'ultima conversazione magari richiamiamo anche qualche docente tipo Maria e altri possono perdere un altro quarto d'ora nella chiusura della PCTO adesso vediamo un po' il direttore anche che ti ha salutato all'inizio ci saluterà anche alla fine va benissimo allora io vi ringrazio è stato un piacere e niente un grande in bocca al lupo a questi ragazzi e ai professori soprattutto mi raccomando ultimo ultimo sforzo è un lavoro difficile la mamma che insegna non so che cosa vuol dire grazie grazie a presto a tutti e grazie per questo momento buon lavoro a tutti come salve salve grazie 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 grazie